ciao a tutti oggi prepareremo le mandorle caramellate il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono mandorle con pelle zucchero di canna cannella acqua e burro diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo nel boccale le mandorle lo zucchero di canna la polvere di cannella e il burro e facciamo cuocere per 6 minuti temperatura varoma anti orario velocità 1 adesso aggiungiamo l'acqua e proseguiamo la cottura per altri 9 minuti temperatura da roma anti orario velocità 1 adesso trasferiamo le nostre mandorle su una teglia rivestita da carta da forno senza sovrapporle adesso la inforneremo a forno preriscaldato a 150 gradi per 10 minuti trascorsi 10 minuti le nostre mandorle sono pronte andiamo a impiattare mandorle caramellate grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti